Ciao a tutti! Oggi prepareremo il biscotto gelato. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti più 5 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono i biscotti, il mascarpone, le gocce di cioccolato, lo zucchero e la panna fresca. Andiamo via alla ricetta! Adesso mettiamo nel boccale lo zucchero. Andiamo a polverizzare a 10 secondi a velocità 10. Andiamo adesso sul fondo con la statola. Mettiamo la farfalla. Andiamo a versare la panna. Sfidiamo. Pensa il misurino. 3 minuti. A velocità 3. Andiamo adesso nel nostro mascarpone. Chiudiamo. Mettiamo questa volta il misurino. Andiamo ad azionare il vino per 30 secondi. e quindi a velocità 3. Il nostro gelato è pronto. Andiamo adesso a togliere la farfalla. e uniamo le gocce di cioccolato. Amalgamiamo. e andiamo adesso a farcire i nostri biscotti. Precedentemente io avevo spalmato un velo di nutella sui biscotti e le avevo posizionate in freezer per 20 minuti. Adesso andiamo a mettere il nostro gelato. Adesso andiamo a mettere il nostro gelato. Dopo aver tempi dei biscotti andiamo a riporli in freezer per almeno 5 ore. Biscotto gelato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie a tutti.